Subito con un tiro che impegna Zenga, il Bari che vedete nelle immagini è in casacca blu, qui vedete un'altra conclusione dei baressi, invece il Padova in completa tenuta bianca che si presenta con l'antignoti, vedete il tiro velenosissimo che beffa praticamente Fontana, che poteva farci tantissimo onestamente, vedete il tiro che termina proprio sulla sinistra di Fontana. E sì che il Bari comunque ha incassato il gol proprio nel momento in cui stava dando la sensazione di poter andare a rete. Queste immagini si riferiscono invece alla ripresa, il Bari è partito all'arembaggio, praticamente c'è stata la svolta al momento in cui è entrato in campo Doll, qui c'è la traversa colpita, rivediamola anche da altra angolazione sugli sviluppi di un calcio di punizione dal Bari, poi vedete qui il rischio addirittura del 2-0 per il Padova nella più classica reazione di contropiede, attenzione, qui c'è il calcio di rigore che viene fischiato dal direttore di gara, l'esecuzione impeccabile di Guerrero proprio lì dove Zenga non può arrivarci, 1-1, rivediamo anche dal basso.